Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video Oggi sono in compagnia della mia sorellina Perché non potete immaginare in quante me l'avete richiesta Perciò finalmente siamo riuscite a fare un video insieme E si tratta di un Deborah e Mickey assaggiano O assaggi Boracci Allora, prima di iniziare il video Ci tenevo a dare i crediti Perché questo video è stato inventato da Barbie Xanax Che non vedrà mai questo video Però io le mando un bacione gigante È una ragazza che io ho riscoperto da poco E da quel momento la sto seguendo sempre Ma soprattutto volevo dare i crediti anche a Dell'Eddy, la mia amica Eleonora Ciao amore Perché è lei che Mi ha dato proprio lo sprint Per fare questo video Infatti sono andata a comprare La cioccolata questa qui Che è tipo strana, della Mirka degli Oreo Però non è quella classica C'è tipo tutto uno strato di Oreo ed è gigante Sì, che fanno la regala da Natale almeno Ti dovete dirmi Ingrasso Nooo No, non è vero Tra i regali di Natale c'era anche questa Perché appunto lei adora i Mirka Sono i suoi biscotti preferiti No, mi dice Eh, l'Oreo Sono i suoi biscotti preferiti E io volevo fare questo video Perciò ho preso tutto Non c'è niente Ma stamattina mi ha fatto Per il leccio a due o tre giorni Loro lo sanno Quindi non so cucinare Non ci so fare in cucina A parte mangia Però molto infezionata Evviva Comunque Io direi di iniziare Trovate i canali di Eleonora E Barbie Xanax Giù nell'info box E Apriamo Allora La cioccolata si presenta Così Io direi È una cosa spessissima Puoi fare due cose per uno Mi piace Sì È una piccata C'è dentro È tutto orioso Il mio teo Assaggiamo Oddio Sono in alto Non ho mai mangiato Tres Due Uno Via Oddio Sembra tipo Il Kinder Ah È dentro Lo creo Sembra Il Kinder Come si chiama Il Kinder Alla rumina Secondo me È 8 Secondo te Secondo me È 9 Perché È buona È molto buona È veramente molto buona E niente Ragazzi Il video finisce qui Noi ora continuiamo A ruminare Soccolata Come se ne avessimo Mangiato Poco Durante Questi giorni Natalizi Noi vi mandiamo Un grosso bacio E mi raccomando Giù nei commenti Scrivete se avete Qualche idea Di qualche cibo Da farci assaggiare Ciao ragazzi Ciao ragazzi